il guastafeste nella scienza la filosofia si separò dalla scienza quando pose la questione qual è quella conoscenza del mondo e della vita nella quale l'uomo vive più felice ciò avvenne nelle scuole socratiche col punto di vista della felicità si legarono le vene alla ricerca scientifiche e lo si fa ancora oggi